Dopo gli scontri di sabato pomeriggio a Roma, Nicky Vendola ha così dichiarato ai microfoni di Sky. Era importante che anche i black bloc andassero all'inferno, ma così non è stato, ed allora hanno scippato la parola a chi si ribella alla precarietà. Inoltre ha aggiunto, a Roma sono andate in scena due manifestazioni. Una è quella meravigliosa di centinaia di migliaia di persone che hanno lavorato per portare i loro simboli per manifestare pacificamente lo spirito di rivolta contro un destino di precarietà, che rischia di risuttiare il senso della vita di questa generazione. Dall'altra parte c'è stata un'altra manifestazione, quella di minoranze di teppisti, black bloc, che tolgono spazio alle ragioni degli indignati. Così coloro che hanno portato il paese alla rovina hanno avuto motivo di conforto nel vedere le ragioni del dissenso stritolate tra San Pietrino e lacrimogeni. Ma in questo modo, a concluso, si imbocca un vicolo cieco, perché tutta la politica dovrà sempre confrontarsi con i temi sollevati dagli indignati.